ama il gioco ma del gioco non è prigioniero è un uomo curioso interessante interessato e fabio celestini e buonasera e grazie per aver scelto di passare un pezzo della giornata di pasqua qui con noi a spawn stop da dove nasce tutta la curiosità la voglia di migliorare di confrontarsi di cui tutti parlano quando si riferiscono a fabio celestini sicuramente il fatto di essere cresciuto in un quartiere di migranti vicino a losanna dove ci siamo fatti da soli e dunque la mia curiosità viene veramente da lì dove ho conosciuto il calcio ho giocato sempre a calcio ero vicino vivevo quasi solo sul campo di calcio e non ho avuto nessun tipo di formazione speciale non ero nel team di non so cosa mi sono fatto sul campo giocando le partite e dunque penso che poco a poco con le mie esperienze sono riuscito a a fare passo dopo passo la la mia carriera però è stato sempre una successione di esperienze dove ecco la mia curiosità mi cercava di andare sempre più in là e credo che questo è veramente il mio c'è il mio marchio che non ho grandi doti però una grandissima curiosità una grandissima voglia di lavorare allora già dire non ho grandi doti significa avere grande umiltà perché poi invece quelle doti ci sono e come per aver fatto la carriera da giocatore che ha fatto e per fare quello che sta facendo da allenatore penso a quel campetto sicuramente è un luogo significativo per fabio celestino ma ci sono tanti luoghi significativi per per una persona ci sono anche persone che significano qualche cosa con cui magari si condivide qualcosa di di particolare rende burri è una di queste persone sì ho avuto la fortuna di conoscerlo e qualche anno fa tramite il festival dell'immagine di veve che il mio amico stefano è il direttore del festival e mi ha detto che andato a visitare roné nella sua casa a parigi e per invitarlo per fare una una mostra al festival dell'image sul cgevara e ha avuto la grandissima sorpresa che su nel suo salotto roné aveva una foto mia e una foto mia della nazionale dove romani che c'è smanicato dove c'era la sua foto tatuata e sì perché stiamo parlando di uno dei più grandi fotografi della storia a sinistra quella fotografia dice ghevara con il tatuaggio sul braccio di fabio celestini e perché quel tatuaggio perché significato tanto e significa penso tanto nella testa nel modo di essere essere cambiato voglio prima dire una cosa ho fatto quel tatuaggio in un momento sempre speciale i miei tatuaggi hanno tutti un senso hanno tutto tutti parte di una mia epoca come come persona in quel momento lì l'ho fatto quando sono andato via dal marsilia dove la mia scalinata professionale era arrivata quasi al top visto che veniva di giocare l'europeo con la nazionale finita più o meno bene più o meno male e con l'olimpia di marsella venivo di giocare una finale di coppa d'europa league però sono entrato dieci minuti in marsilia mi aveva detto che non sarei partito titolare dunque sono arrivato al culmine della mia carriera però ero una persona triste fondamentalmente perché l'europeo l'avevo sbagliato avevo avuto la grande la mia grande opportunità contro l'inghilterra l'ho sbagliata e la finale di coppa d'europa l'ho persa e l'ho giocato dieci minuti in marsilia fondamentalmente anche dopo 80 partiti in due anni mi ha detto che non partivo titolare dunque ero veramente in momenti un po un po strani e prendere la decisione di andare a levante ne ho promosso in spagna era un po una cosa speciale per me e avevo bisogno sicuramente di lottare per le cose che io avevo bisogno in cui credevo veramente e avevo letto tantissimo su questa su questo personaggio al di là delle sue idee politiche o quello che ha potuto fare non fare ma soprattutto sull'uomo che poi dopo rivoluzionare guerriero cosa c'è anche una persona che comunque molto colta è un'altra persona detto di lui quella persona lì infatti il mio tatuaggio non assolutamente con il cappello da guerriero non è politico e non è politico e semplicemente ecco una foto dove lui sta fumando il suo sigolo è un più asmatico e credo che sia una bella foto è veramente su quello che rappresenta di lottare per le sue idee il c'è affascinava anche e affascina fabio celestini anche per la capacità di comunicare la capacità di aprire magari gli occhi ai più giovani mostrare una via in questo senso fabio celestini si sente un po rivoluzionario non lo so il problema della del ceo così anche della rivoluzione rivoluzionario come si vuol dire che alla fine in svizzera se uno ha un'idea no qualcuna delle convinzioni è un po rivoluzionario perché in svizzera la sensazione che ogni volta che c'è qualcuno che crede in qualcosa e si vede come qualcuno di strano qualcuno che è un po prepotente così invece sono una questione di convinzione di avere una linea cercare di continuare in quella linea lì e io ho preso spunto su questo ma soprattutto mi ha affascinato anche sentirlo parlare con che carisma parlava con che intelligenza comunque parlare poi possiamo opinare su quello che dice non per questo poi opinabile su di tutto però è comunque qualcuno di carismatico è comunque qualcuno che se si va veramente a conoscere un po la sua storia dall'inizio alla fine è comunque qualcuno che non può lasciare indifferente non possiamo parlare di un atto rivoluzionario ma è sicuramente qualcosa di bellissimo aprire un allenamento invece a dei ragazzi più piccoli magari a ragazzi che lottano per cose davvero tanti avevo anche io qualche anno fa un'associazione si chiama 442 che aiutava anche lì i bambini tramite il calcio di cercare giustamente di fare sport per chi non aveva la possibilità di farlo poi facendo l'allenatore ho dovuto smettere perché il tempo era veramente poco e dunque ho dovuto smettere però c'ho sempre una sensibilità importante con i bambini con il calcio con il sport di cercare di aiutare sono padrino di una piccola squadra in cordova in argentina dunque è sempre qualcosa che mi è piaciuto tantissimo aiutare gli altri soprattutto i bambini ho tre figli so cos'è essere padre so cos'è avere la fortuna di avere figli in buona salute e credo che sia della nostra responsabilità di poter aiutare in un pomeriggio di sole su un campo da calcio a noi ci dà solo felicità ma penso che ai bambini abbiamo dato ancora qualcosa in più e credo che sia della nostra responsabilità di fare questi eventi qua la fondazione se non ricordo male 442 aveva anche un motto molto particolare era for the dream for the dream for the dream to you quindi insomma anche questo questo dice molto cosa significa insegnare ai ragazzi la cultura del lavoro e renderli migliori credo che sia una cultura di vita fondamentalmente perché il calcio è solo c'è un microcosmo della vita in generale fuori la troviamo lì perché alla fine anche a livello sociale ritroviamo esattamente le stesse cose che c'è nella vita normale solo che è un po' più concentrata e credo che abbiamo una grandissima responsabilità lì come allenatore di insegnare ai ragazzi più piccoli soprattutto cos'è il calcio cos'è lo sport in generale che poi li potrà aiutare se non riescono a fare i professionisti anche nella vita di tutti i giorni di sforzarsi comunque di lavorare di essere sempre sul pezzo di cercare di dare il meglio di si stessi di essere sempre onesti di essere autentici e comunque qualcosa poi farlo correre da e giocando è la cosa sicuramente più bella Torniamo a parlare di comunicazione di lavoro si sta parlando di questo sostanzialmente comunicare per un allenatore è alla base comunicare però significa comunicare con i giornalisti comunicare col proprio datore di lavoro comunicare con i giocatori cambiano tanto le modalità nella testa di Fabio Celestini quando si rivolge per esempio a quei rompiscatoli dei giornalisti quando parla col suo presidente che lo adora e quando parla con i giocatori si cambia perché chiaramente non è lo stesso pubblico però ho imparato nella mia carriera anche da grande allenatore o da grandi persone che ho avuto la possibilità di conoscere che devi sempre restare te stesso cioè al di là di poi chiaramente davanti a una televisione non si può dire esattamente le stesse cose che davanti uno contro uno un giocatore però alla fine devi essere autentico devi dire le cose che pensi le cose che credi per essere credibili credo che la credibilità in un allenatore in una persona sia la cosa più importante dunque di andare a dire delle cose che fondamentalmente non credi o comunque di sempre essere ecco non dire veramente quello che hai dentro alla fine ti fa una persona piatta liscia e anche un po' falsa fondamentalmente io preferisco essere autentico delle volte c'è gente che non gli piace c'è gente che non gli piace tanto Fabio Celestini però alla fine preferisco avere 5 o 6 persone che mi vogliono bere davvero che avere un accento che sono indifferente dunque ho sempre preso la decisione di essere autentico e dire quello che penso in tanti sono sorpresi perché quando Fabio Celestini è arrivato a Lugano molti dicevano ok saranno scintille subito col presidente e invece ribadisco certi risultati contano ma il presidente Angelo Lorenzetti straveda per Fabio Celestini e lo ribadisce settimana dopo settimana sì vabbè i risultati dopo ieri sera fondamentalmente perché sono stato comunque otto partite senza vincere dunque credo che chi mi conosce veramente sa che non è nessun tipo di problema con me nessuno e chi lavora al mio fianco non ho mai avuto problemi con nessuno con nessuno e poi con chi viene una volta settimana delle volte o così non non ha voglia di conoscermi veramente non ha voglia di conoscere chi è veramente dietro l'allenatore così delle volte ci possono essere delle incomprensioni però subito con il presidente c'è stato feeling ma anche tanta comunicazione dove noi ci scambiamo le nostre opinioni senza essere delle volte d'accordo comunque sempre con grandissima sincerità dunque penso per esempio che Angelo Lorenzetti mi conosce cento volte meglio che Alan Joseph con chi sicuramente ho parlato molto di più ma non ha mai voluto andare oltre a quello che era il calciatore o l'allenatore e con pregiudizi chiaramente che io sono rompiscatole che non si può parlare con me e alla fine anche dopo tre anni e tutti i successi che abbiamo avuto in Lausanna con lui e dopo essere partito vendendo la società otto dieci volte di più di quello che l'aveva comprata ancora riuscito a dire che non si poteva parlare con me invece il presidente Lorenzetti dice tutto il contrario ma perché Angelo Lorenzetti conosce il vero Celestini con chi si può parlare perché ha voluto confrontarsi perché ha voluto confrontarsi non mi ha preso com'ero e poi o gli piacevo non gli piacevo le risposte che gli dava gli piacevano non gli piacevano però senza nessun tipo di pregiudizio cioè questo e quello impariamo a conoscerlo e lì credo che sono una persona che ecco gli piace la vita gli piace scherzare gli piace ridere gli piace lavorare sono esigente però sempre cercando di comunicare di avere un clima sereno dentro del mio lavoro si può raccontare tutto quello che succede in uno spogliatoio immagino di no a chi a noi ma tanto siamo così tra amici perché ho una curiosità lugano tun parte male il 2019 non benissimo in effetti e la parola d'ordine dopo quella sconfitta nello spogliatoio mi hanno detto che era storming sì cosa cosa è successo no mi sono sbagliato cioè mi sono sbagliato perché ho pensato in preparazione anche durante il 2008 con il lugano che questo gruppo era capace di essere competitivo vivendo come stava vivendo fondamentalmente un gruppo facile a restire un gruppo di bravi ragazzi che si allenano sempre al cento per cento non ci sono quasi mai problemi fra di loro ma i problemi con lo staff e lì ho sbagliato perché fondamentalmente ci devono essere dei piccoli scintilli ci ci alieniamo facciamo sport ci sono contatti c'è competitività giocano solo in undici c'è un mister che prende decisioni impossibile che sia così piatto e lì ho sbagliato ho sbagliato perché ho pensato che la squadra in questo modo superandi era era diciamo competitiva e invece questo faceva parte del forming che era una struttura che cominciare a fare una squadra dal forming deve passare al storming e storming sono le piccole tempeste che devono succedere e provocazioni da provocazioni no e dirsi le cose e dunque subito dopo il turn sono andato dai miei leader per dire cosa era successo perché abbiamo fatto tutto il contrario di quello che avevamo detto di fare e di soprattutto di quello in cui io gli avevo chiesto di essere veramente la garanzia per me diciamo di ho questi giocatori in campo so che faranno questo e fondamentalmente era successo il contrario invece di dire andiamo sulla prossima ho sentito che c'era qualcosa da c'è da scavare e parlando individualmente ho capito che c'erano tante cose che non si dicevano tante cose scontate allora come c'era un po di problema dircelo fra di noi beh abbiamo creato un po un elettroshock e poi da lì in poi abbiamo cercato di un po come in una coppia no tra loro e noi di comunicare di più e di far uscire un po più di emozioni e dunque chiaramente ci sono stati vari piccoli eventi ma si vivedono anche negli allenamenti dunque questo ha fatto che il gruppo se lo prende sempre in modo costruttivo chiaramente lo rende sempre più forte perché alla fine sappiamo ognuno l'uno e l'altro cosa pensa cosa si pensano di ognuno e dunque credo che ecco c'è stato questo piccolo storm che continua non è che è finito ha funzionato perché dopo quella partita sono arrivati 18 punti per Lugano una sola sconfitta non ci torniamo come perché quella partita con lo Young Boys credo che che faccia ancora soffrire Fabio Celestini parliamo ancora di lavoro di cultura del lavoro io ho sentito pochissimi allenatori dire quello che ha detto Fabio Celestini cioè io devo lavorare su me stesso quando sono a bordo campo durante la partita perché non voglio nuocere alla mia squadra con i miei comportamenti anche questo credo che se dovesse essere giunto alle orecchie dei propri giocatori è un valore aggiunto per l'allenatore sì perché so come sono alla fine cerco di essere il più tranquillo possibile essere sempre abbastanza positivo anche se delle volte non ci arrivo però cerco veramente di anche capire in che momento è la mia squadra di vedere di cosa sempre più bisogna la mia squadra invece di pensare a me stesso la linea è veramente molto sottile tra prendersi farsi prendere dall'emozione e pensare a se stesso di quello che l'allenatore ha bisogno in quel momento lì invece di pensare a quello che sta succedendo in campo perché comunque c'è l'arbitro c'è comunque la tensione alla partita c'è la tua squadra c'è squadra più fermo più tranquillo in momenti importantissimi della partita ma non è perché non sto facendo niente è perché sto cercando di capire cosa devo fare e qual è la miglior decisione non è che posso poi posso fare così fare tante cose fare il pagliaccio in mezzo però non so se sono veramente utili lo vedono in quel momento fermo e concentrato e tranquillo perché ha scaricato la tensione in un altro modo sì ma poi cerco di essere concentrato su quello che veramente ecco come scarica la tensione sì oh con ruby badge eh c'è lo sparring che si è scelto bene devo fare la tensione però perché se non sono attento faccio così è stato un test o è diventata una consuetudine? no 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 è una consuetudine anche se adesso le ultime settimane sono andato un po' meno però e faccio box da quando ho smesso la usanna che non facevo quasi più niente e mi sono promesso a me stesso di fare sport di fare fare attività fuori dal calcio per poter riuscire ad essere concentrato al 100% nel mio lavoro e se si è 24 ore al giorno messo lì dentro non ci si arriva dunque ho cercato dei sport che mi facevano mi davano la possibilità di veramente non pensare al calcio e le due uniche attività che ho riuscito a trovare la boxe e il ballo fondamentalmente il ballo? sì latino americano? latino americano non poteva essere lo troppo però visto che si parla di latino americano potremmo andare qui eh beh non è un posto brutto Panama è il tornillo è un paese eccezionale mi sono innamorato prima di noi delle donne del paese e poi del paese è un paese europeo però con questo tocco latino che per me è importantissimo di un minimo di caos nella mia vita ne ho bisogno no? ne ho bisogno cioè caos da una parte ma anche la tranquillità nel prendere determinate decisioni nell'affrontare la vita ed è una cosa che stride un po' con se vogliamo la frenesia elvetica europea sì a me piace questo anche il fatto per esempio di non aver mai scuse per andare a bere qualcosa di passare tempo con la famiglia, con gli amici, di come uscire si passa tantissimo tempo a lavorare in Svizzera abbiamo tantissimi schemi che dobbiamo fare questo, poi quello, poi quell'arte, poi quello, lui, quello, lì poi andare a letto e poi si ricomincia chiaramente passando sei anni, sette anni in Spagna questo schema si è rotto un po' e poi conoscendo Panama si è proprio finito un macello però mi piace, mi piace perché il lunedì è la stessa cosa che il sabato il sabato è la stessa cosa che il mercoledì è solo che se è in compagnia si vive la vita fondamentalmente e poi se si dorme tre ore si dormono tre ore si va al lavoro e si fa e poi si dormerà un altro giorno mi hanno detto che almeno per adesso c'è solo una vita e cerco di viverla al 120%, in quel paese lì ho trovato tutto questo c'è questa gioia di vivere anche con le cose piccoline sempre voglio di scherzare, senza voglio di ballare di ascoltare musica in tutti i posti dove si va anche le minime cose diventano delle gioie dunque chiaramente è un paese che mi ha innamorato la gioia della vita, ma Panama significa anche la gioia dell'amore eh sì, eh sì, e non è facile vivere con una latina è un po' differente da... ma adesso ci deve spiegare questa gioca a flat football ah ecco gioca a flat football e lei comunque una persona molto attaccata al suo nome tantissimo, anche se siamo sposati e lì il numero 19 è la data di nascita della nostra filiaria e lì ha messo quello che dovrebbe essere il suo nome però che raramente utilizza e dunque è stato anche perché siamo separati perché lei è là, io sono qua dunque sono stati comunque... adesso siamo alla fine, otto mesi molto... è dura, eh? è dura sì, è dura sì, quattro mesi senza avere... e quando ci si ritrova cosa succede? è vero che sono venuti a... hanno fatto una sorpresa a Basilea? eh no, loro sono venuti a novembre e poi lei è venuta qualche settimana fa però per 5-6 ore, 7 ore per un convegno e adesso c'è la piccolina qua dunque insomma ci siamo visti un po' però sono stati... da gennaio adesso sono stati quattro mesi senza vederli dunque chiaramente è uno sforzo che si doveva fare per la piccolina soprattutto che aveva cominciato la scuola però sono attaccato alla famiglia sono attaccato a queste persone qua di essere qua da solo è un po' difficile però diciamo che la squadra mi ha dato una mano perché quando ci sono i buoni risultati e che le cose vanno abbastanza bene comunque si vive un po' meglio però chiaramente di vedere il mio nome quando gioca a flag football e lei non è competitiva per questo ha messo il mio nome è una persona assolutamente non competitiva con me ha capito che in qualsiasi cosa che si gioca bisogna fare le cose infatti ci siamo molte volte incavolati fra di noi perché lei gioca per giocare, io gioco per vincere e questa cosa non la concepisce e lei invece adesso facendo flag football ha cominciato a capire un po' i meccanismi l'adrenalina, l'allenare per andare in partita gli sta piacendo e allora ha deciso di mettere il nome lì ha ringraziato la squadra poco fa Fabio Celestini beh l'ha ringraziato anche il giorno dopo la vittoria perché la vittoria con lo Zurigo decisamente una buona Pasqua e Fabio Celestini che è social ma non troppo ha deciso comunque che ci stava questa è colpa di mia moglie questo perché? perché a me non piace cioè l'ho fatto io faccio io però non c'ho Facebook non c'ho Twitter, non c'ho niente fondamentalmente non c'avevo Instagram però mia moglie mi dice sempre sai è importante comunque avere qualcosa allora vabbè quello che dice chiaramente una moglie latina si deve fare perché sennò no ma anche se non è latina ma se è latina ancora di più sì si deve fare per forza dunque l'ho fatto però sono poco cioè poco presente anche perché credo che non so se mi cioè non mi dà tantissime cose però ogni tanto ecco ogni tanto faccio faccio qualche qualcosina insomma ogni tanto ci sta anche un post in Instagram invece da piccolo da giovanissimo Fabio Celestini sempre cercava di dimostrare qualche cosa in più diceva io sento di dover dare qualche cosa in più perché sono arrivo da una famiglia di emigranti è proprio così questa è una valigia che rappresenta se vogliamo la valigia che tanti emigranti hanno avevano quando gli anni 60 70 e che ancora oggi arrivano in Svizzera è proprio così si dava qualche cosa di più per questa ragione può darsi per l'educazione che abbiamo avuto almeno parlo della mia il mio papà lui aveva comunque studiato però è venuto in Svizzera ha preso il lavoro che gli hanno dato non è che ha dato a scegliere il lavoro però ha lottato tutti i giorni andava tutte le mattine da una società che si chiama Bobst che era vicino a casa perché lì si faceva il mestiere che lui aveva imparato però non c'erano posti il signore gli diceva non c'è posto e lui è andato per credo due o tre mesi tutti i giorni tutti i mattina prima di andare o alle ferroie o su un cantiere di costruzione lì ha chiesto di lavoro fino a un giorno dove questo qua ha chiamato a casa dove c'era mia mamma e gli ha detto guardi non ce la facciamo più sono due mesi che rompe le scatole dunque ditele che domani mattina venga lo metteremo a pulire qualcosa e poi quando si libera un posto lo butteremo a fare il suo lavoro però per favore che non venga più la mattina perché lo prendiamo e lì ha smesso di fare le ferrovie o fare il cantiere e poi è stato credo 35-40 anni in questa società e dunque questa è l'educazione che ho avuto di sempre comunque lottare per le cose che hai e credere in quello che vuoi fare non dire solo sfortuna sono emigrante dare una cosa in più per poter arrivare ai suoi sogni e dunque chiaramente avendo questa educazione ho cercato anche di applicarla alla mia vita quello che si dice un vero un vero esempio e questo signore è stato un esempio per Fabio Celestini Ber Schuster allora il suo allenatore sì a Levante poi è stato il Fabio Celestini è stato il vice a Malaga di Schuster poi l'ho avuto a Getafe due anni ah giusto sono stato tre anni con lui come allenatore e poi un anno come secondo è una persona stranissima è una persona che ho imparato tantissimo perché anche lui ha questa immagine che poi è tutto il contrario ecco tutta la gente che non lo conosce va e lo prende come tutti i pregiudizi che ci possono pensare è tutto il contrario cioè Berth è tutto il contrario è divertente c'è qualcuno di veramente alla buona non grida mai non ho mai visto urlare una volta né in campo né in allenamento né in uno spugliatoio né perdendo tra zero alla fine del primo mai c'è una persona quasi piatta fondamentalmente chiaramente con una personalità fortissima tedesca che non parla molto però è una persona eccezionale una persona eccezionale complessa complessa però eccezionale io sono andato a Levante non ci è andato benissimo ho preso il Getafe poi ci ho fatto cinque anni mi ha preso come vice a Malaga dunque qualcosina li devo qualcosina li devo li voglio veramente bene Getafe e se io a Getafe abbino Massimo Buzacca ah no e l'ho avuto l'altro giorno abbiamo parlato l'altro giorno a un evento della Leifazen cosa è successo? con la società eh no il quarto di finale di Europa League con il Bayern Monaco ancora ancora non l'ho digerita sono qualche anno facciamo uno a uno nell'area Allianz Arena a Munich giochiamo il ritorno dove c'è tutta la Spagna che ci guarda il piccolo Getafe contro il grande Bayern Munich c'è il re in tribuna e dopo due minuti ci espelle il nostro difensore centrale Ruben De La Red anche giustamente con l'ultimo uomo giochiamo tutta la partita dieci contro undici facciamo gol vinciamo uno a zero e al novantesimo Ribery fa gol uno a uno dunque abbiamo ancora mezz'ora a giocare dieci contro undici dunque è finita e noi in sei minuti facciamo due gol tre a uno dunque beh si volava in campo e io sempre dicevo Massimo ma adesso ci fate cioè cominciamo a mettere troppi minuti di troppo perché non ce la facciamo poi c'è il nostro portiere patto abbondanziere che prende vabbè fa un errore grandissimo su una palla incredibile fa gol Tony tre a due e poi veramente all'ultima azione va su Can e rimette una palla lunga lui va di testa per noi fa fallo fallo lui dice e io gli dico Massimo guarda fischia la fine perché e lui dice tanto è finita e quando ha detto tanto è finita questi qua ci entrano ci entrano e gli fa gol di testa tra tre siamo eliminati allora beh sono più avuti qualche parole importanti però è un grandissimo arbitro una grandissima persona e vabbè poi è un episodio posso solo immaginare Fabio Celestini ha fatto tante scelte in carriera una per nulla scontata e molto particolare è stata quella di lasciare la Spagna dove collaborava con Schuster e andare a Terra Cina questa è una prima pagina dedicata a Fabio Celestini quando è arrivato a Terra Cina serie D sì perché? perché ho fatto un anno a Malaga dove mi è piaciuto tantissimo allenare con Bernardo e dovevamo andare al Galatasaray poi alla fine non ci siamo andati è andato Prandelli e Bernardo non aveva niente e io non volevo restare fermo e fare il secondo sentivo che anche se era di Bernth mi sarebbe piaciuto cominciare ad allenare anche se avevo allenato i piccolini di tutte le età però volevo lanciarmi le stesse persone che ci portavano al Galatasaray avevano un progetto in serie di alteracine con tantissimi giovani di tutta Europa mi sono lasciato convincere fondamentalmente e mi sono rimesso in gioco e ci sono andato è stata sicuramente un'esperienza sì sicuramente un'esperienza molto particolare particolare però stavo pensando Terracina è nel promontorio del Circeo e la leggenda vuole che Ulisse dopo aver passato qualche tempo con Circe da quella spiaggia è ripartito per tornare a casa per tornare a Itaca beh da Terracina la stessa cosa Fabio Celestini è tornato a Lausanne perché Lausanne per Fabio Celestini significa un Fabio Celestini giocatore un Fabio Celestini allenatore sono la stessa cosa quali sono le differenze cosa ha voluto dire iniziare la carriera giocatore chiuderla lì e sostanzialmente prendere il volo da allenatore proprio Lausanne sì anche se poi delle volte Lausanne è un po' amore e odio come sempre le persone del posto è sempre molto difficile essere profeta nel suo paese nella sua città sì sono ripartito da lì perché comunque alla fine Lausanne quando deve chiamare qualcuno spesso e volentieri chiama me e sempre con grandissimi piacere che ritorno a Lausanne chiaramente ci sono ci ho cominciato come calciatore ci ho finito come calciatore ci ho cominciato come allenatore non credo che ci ritornerò mai dire mai mai dire mai però credo che che la mia tappa a Lausanne nella mia vita professionista è finita l'altra volta perché sono stati comunque momenti difficili momenti duri cicatrici che saranno in questo caso e ho tanti difetti uno di questi sicuramente che quando a uno gli fa male ho difficoltà un po' la cicatrice non è che si chiude così facilmente anche perché sono andato via veramente da una porta mi hanno fatto uscire da una porta una sera alle 11 di notte senza salutare la squadra e questo chiaramente penso che dopo tre anni laggiù non me lo meritavo fondamentalmente esonero vabbè però rispetto un'altra cosa però rispetto un'altra cosa dunque chiaramente quello è rimasto un segnale un po' un po' negativo e lì chiaramente sarà più difficile da cicatrizzare dimentichiamo questa dimentichiamo lasciamo lì quella cicatrice esatto adesso faccio vedere Fabio Celestini un ragazzo che secondo me ha delle qualità non male quel ragazzo destro sinistro testa alta si si può infatti poi non ci arrivavo più a fare queste robe qua perché non è tanto grande facevo controllo il passaggio e basta infatti poi quando rivedo le immagini qualcosina in più cosa volevo fare mi piaceva il calcio mi piaceva comunque quel bambino tanto per dire l'abbiamo già l'abbiamo già accennato prima è arrivato a giocare a Marsiglia è arrivato a essere il capitano dell'Olympique Marsiglia insomma essere capitano giocare in quella squadra in quella città non è una cosa scontata ricordo cioè dobbiamo sempre sapere da dove si parte quartiere di migranti vicino a Rosanna dove si fa da soli nessuno tipo di formazione come adesso con i team team Ticino team V tutto quello che si vuole sette allenatori lì si tirava la palla e si giocava e io sono cresciuto così con la mia curiosità con il mio lavoro con le mie qualità con i miei difetti poi mi sono incontrato lì e dovevi parlare a Barthez dovevi parlare a Dorogba dovevi parlare a questa gente qua e l'ho fatto con tantissima voglia e così però mi ha preso un'energia allucinante gestire tutta sta roba qua era per me troppo penso a parte la città che proprio ti ti mangia completamente nei buoni dei cattivi momenti e lo stadio quando giochi lì è una cosa incredibile poi avere uno spogliatoio come avevamo e giochiamo alla Champions poi sono andati fino in finale dell'Europa League cioè veramente una cosa che mi ha cioè un anno a Marsiglia vale tre anni per me vale io non ho fatto vent'anni carri hanno fatto i trenti quell'anno lì ma veramente cioè arrivavo a casa e l'ho sfinito infatti delle volte andavo mi ricordo che io vivevo proprio sul mare e davanti avevo un porto un porticino e andavo lì a pescare alla sera alle dieci da solo veramente riuscire a trovare un momento di serenità e di tranquillità perché era impossibile da andare a coprare il pane da andare al supermercato da andare a qualsiasi parte della città era impossibile e per me questa cosa qua alla differenza di Didier Drogba che era vicino di casa a lui questo cioè gasava in modo allucinante a me questo pesava e penso che sono stati i miei limiti fondamentalmente anche può darsi nazionale ecco a proposito di di nazionale cosa significa nazionale per Fabio Celestini non so se non ci fosse stato lui sarebbe stato diverso infatti te lo dicevo un'altra foto io sto cercando di bloccarlo l'abbiamo scelto proprio per quello lo volevo dare un schiaffo no vabbè con Johan il problema è che uno è più giovane di me ha cominciato prima di me è andato al Ghezze che era un Ghezze stato sferico certo poi è andato al PSV Eindhoven che vinceva il campionato sul campionato e io sono stato sempre dietro e non ho mai trovato un allenatore che ha detto faccio giocare a Celestino dunque da lì ecco sono stato sempre il secondo però lui non ha fatto un gol come questo contropiede per la Svizzera ancora Schapuizat stringe al centro Schapuizat il pallone molto invitante per Celestini tiro crociato gol Celestini porta in vantaggio di nuovo la Svizzera sul passaggio di Schapuizat al 42esimo nel secondo tempo prodezza del nostro giocatore dell'Union Pig Marsiglia minuto 85 Fabio Celestini entra al posto di Akan Yakin minuto 88 Fabio Celestini segna la rete del 2-1 in Irlanda il momento più bello nazionale? sì 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 il momento più bello perché ho avuto poche possibilità di brillare nazionale un po' il contrario di quello che ho avuto nel club e e lì avevo questi pezzi di partita da giocare 10 15 20 poi avevo soprattutto partite amichevoli da giocare in Tunisia Cipro le partite che non volevano fare e lì ho sentito cosa voleva dire giocare per la nazionale cioè dopo la partita ho ancora cioè mi ricordo esattamente la sensazione tante altre cose della mia carriera un po' le perdi quel momento lì me lo ricordo esattamente in albergo cioè di sentire di aver fatto qualcosa per un paese cioè una cosa indescrivibile indescrivibile è una sensazione che poi anche in Champions anche con tutti i momenti che ho potuto vivere la mia carriera e che sono stato fortunato quel momento lì c'è una gioia incredibile poi di tornare anche in Svizzera i sguardi della gente sì sicuramente il mio più bel momento bello è un aggettivo che ricorre nella vita nella carriera di Fabio Celestini anche come allenatore perché si dice che Fabio Celestini cerca certo l'efficacia della propria squadra ma cerca anche la bellezza del gioco e la frase di Dostoevsky la bellezza salverà il mondo potrebbe essere non so magari un tatuaggio di Fabio Celestini potrebbe diventare sì comincio ad avere poco posto perché mi sono detto che fino a non volevano andare più giù di qua però non si sa mai sì poi la bellezza dipende sempre di cosa si vuol dire perché alla fine una cosa bella per me può essere brutta per qualcun altro la bellezza può essere armonia la bellezza può essere il vero sì ma per questo dico che alla fine il bel gioco non vuol dire niente perché il bel gioco per me non è lo stesso che per te sicuramente dunque alla fine per me è veramente l'unica cosa quello che c'hai dentro che arrivi a trasmettere di fare in modo che la tua squadra veramente possa interpretare quello che tu stai cercando di dargli e quello per me è bello quando non do qualche input e poi sono i giocatori che lo interpretano per me questa è la più grande gioia e veramente quando vedo che la mia squadra non fa esattamente quello che gli sto dicendo io che prende certi principi poi li fa suoi e poi li metti in campo per me è una gioia incredibile la sto perdendo un po' no? perché non hai il controllo assoluto però è una forza incredibile perché alla fine sono loro in campo non sono io dunque c'è questo per me la più grande bellezza è questa di sentire la tua squadra che la stai perdendo un po' però la vedi che si sta giocando da sola sta crescendo sta diventando grande come un bambino esattamente beh allora la bellezza per ognuno di noi è qualcosa di diverso e mi auguro che bello sia stato per Fabio Celestini venire a Spornostop e fare quattro chiacchiere con noi come no è stato un gran piacere allora grazie grazie mille ancora buona Pasqua e in bocca al lupo per le ultime sei partite perché c'è un grande obiettivo ci sono tanti obiettivi ancora nel futuro di questo Lugano è di Fabio Celestini grazie mille e c'è che la ridà con un gran pallone a Gerta questo è il Junior che azione mamma mia grazie mille grazie mille Grazie a tutti.